E' be' di trovare a questo nuovissimo gameplay di Assassin's Creed 2, qui con leon che è nel 95. Ok, stiamo per entrare nell'Animus. I cari avranno anni e più soldi di noi, ma non hanno ambizione, nessuna passione o competitività. Ecco perché, nonostante le loro risorse, qualunque cosa facciano io la faccio meglio. E' più in fretta. Comunque, quando sei pronto si abiti, che iniziamo. Devo fare ancora qualche piccola modifica. Io adesso metto da l'estero perché io voglio... Sì. Già, voglio andare a Firenze. E questa come funziona? E' tipo resa. Un bel respiro. Ah, è che sei un po' fatta. Ciao. Beh. Cazzo, mamma. Mi hai messo il casco per i capelli. Fico. Tutto bianco. Sono in paradiso? Il primo in paradiso. Azione completata. Mi dai altri punti. Uplay. Mi dai altri punti. Ti ringrazio. Ovviamente sapete che con Uplay si sbloccano dei freni. Che potrebbero essere sbloccabili su questo play. Per ulteriori informazioni sono cazzi vostri. Poi lo sapete voi. Ok. Altri punti mi ha dato. Non gli bastano. Vorrei darmi ancora più punti. Ti ringrazio. Ok. Adesso ci troviamo a questa cacchio di posto magnifico chiamato Firenze. Ovviamente Firenze è un posto magnifico. Anche per le strutture. La piazza della signoria è la migliore. Un complimento a quella piazza che è la migliore. Piazza della signoria. Bellissima piazza. Pianca. Pianca. Ovviamente per farci lì complimenti ai Faventini perché Firenze è un bellissimo posto. Visto nel gioco. Si rendeva per essere un bellissimo posto. Anche se non sarà più così con i certi punti però. Da quello che è stato visto è un bel posto. Complimenti. adesso esce Ezio amici siamo qui riuniti insieme per la vittoria insieme silenzio amici miei silenzio grazie sapete cosa ci porta questa sera l'onore il mio compagno di 7 8 anni pensavo che i pazzi assoltassero altri per fare il lavoro un saluto ciao hai paura di trattare gli affari di persone la tua sorella sembrava contenta del trattamento che l'ho riservato poco fa uccidetelo cazzo ha spaccato la bucca spacchiamo la testa questi pezzi di merda alla carica vai vai alla faccia tua muori 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 dai mettiti questo e questo e questo e questo vai ecco dietro di te Federico che ci fai qui volevo vedere se il mio fratellino mi va entrato a fare botte e che ti pare hai stile hai la resistenza che conta vediamo quanti riesci a stendermi prima che abbiamo meglio su te 2-1 2-1 ma è qua vai 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 alla faccia vostra vai attacca pezzo di cacca non non hai capito mano vai 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 confusa non amore che se pare via stanno a mezzo di mezzo aspetta che c'è abbiamo quasi vinto il labbro è solo un graffino aspetta il dottore non è necessario e tra l'altro non ho soldi per questo tuo dottore sperati tutti i donna e di sperati non ti è restami qualche fiorino o anche tu hai fatto lo stesso se lo vuoi vedere avranno pure qualcosa in scassella allora poi come siamo questi figli di puttane dove i fiorini sono soldi 10 10 10 25 euro 25 euro sono i soldi che trovo ci vuole 111 dico questo va bene dovrebbe bastare andiamoci di torno prima che arrivino le quattro e dove si va a Napoli qui siamo a Firenze non siamo per niente a Napoli prima finiamo col dottore prima si va a dormire pussi di gomma lo sai e allora e sai quelli cosi come si chiamano? l'ossacchiotto scusi ha messo i labbi guarda adesso te ne sei accorto è il tuo presente? no no prossimamente il presente allora dopo questo ok aspettiamo quando solo metto perché è troppo grande perché è troppo grande fin troppo per i miei gusti dove è il dottore di merda eccolo qua che non si è accorto che non si è accorto si è accorto ah si medicina dove siete sentiti? l'hai trovato dottore? ma l'ha dove? i fratelli e l'auditore come mai la cosa non mi sorprende? ma guardate un po' come vi siete di tutto ma non è nulla dovete aiutare? quel bel disino è tutto ciò che ha fottiti ma credi ecco la maschera più buona va da di moda di qua dove si va adesso? ah davvero vorrei che fosse tu che sia divertente? aspetta ma lo so voglio tornare a casa certamente che mi hai conito quando mai ho perso? vorrei evitarmi la romanzia ti va ma ti collagare? certamente fin dove? il tetto di quella chiesa 3 2 1 3 1 2 3 4 4 4 4 4 4 5 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 6 6 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 9 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 15 15 15 16 16 17 18